Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione di Rapace, Zenith e Cuore Nero, tre personaggi che dovrete eliminare per completare l'incarico. Ovviamente non dovete eliminarli tutti, ve ne basta uno. Cuore Nero si trova al vascello vichingo, qui, Rapace si trova qui al sito dello schianto e Zenith si trova qui alla stazione meteorologica. Quindi ricapitolo 1, 2 e 3. Decidete quale dei tre eliminare per completare l'incarico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.